Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi unboxing di novità appena uscite by Seika Uscite proprio nell'ultimo mese quindi direi di non perdere altro tempo e via con la sigla Dunque come vi stavo anticipando oggi unboxing a quanto particolare praticamente tutti i prodotti che ci saranno in questo unboxing sono usciti nell'ultimo mese Allora prima cosa il nuovo guadino Predator Sliding che andrà a sostituire il mio vecchio Predator Pro Questa è la versione da 1,40 m di lunghezza, ci sono tante versioni con varie dimensioni di testa e lunghezza totale Questo in apertura tra manico e testa arriva a 140 cm L'ho preso per andare normalmente a pesca quindi a piedi così me lo metto nello zaino, si incastra, è molto leggero e vado comodo C'ha una testa bella grande con ovviamente rete gommata che ci può stare dentro di tutto Guardando dalla maglia, cioè guardando dalla rete sicuramente pesci anche 7-8 kg Tipo carpe, può essere un perca, ci può stare anche qualche luccio di dimensioni medie Quindi quello che può normalmente capitare è una sessione di pesca spinning medio leggera In più anche per andare a pescare con il kayak perché mi ci vuole un guadino bello capiente Quando vai a bus, cavedani, spigole Però non lo voglio troppo lungo né troppo pesante, questo è perfetto In più ha questo sistema che comunque ha una slitta, non è un tubo tondo quindi non può andare fuori asse E si chiama sliding appunto perché slida e si va a bloccare da solo Cosa comoda quando devi tirar fuori velocemente il guadino e soprattutto sei da solo È comodo quando vai a piedi dopo il kayak che bene o male è sempre aperto Vedete, bella grande e capiente Il tasto del guadino non è tonda e verso la punta è leggermente inclinata per andare meglio a guadinare il pesce Alla fine c'è una piccola cordina in modo anche da legarselo in modo che non scappa Magari quando abbiamo il pesce tenuto un attimo là in viva Si può anche aggrappare da qualche parte quindi è veramente comodo Questo andrà a sostituire il mio povero Predator Pro che ormai è distrutto, dilamiato da tutti i pesci che ha fatto in questi ultimi anni È un notevole upgrade che mi aiuta perché ha una maglia più grande Quindi anche quando si andrà a fare qualche pesce un pochino più carino mi aiuterà molto Intanto vi ricordo di lasciare like, condividere il video e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti Mi raccomando ragazzi superiamo i 100 like per queste novità secche Altro guadino, seconda cosa altro guadino Questo è il torrent Che ho preso apposta per andare in torrente o comunque in wading a pesca Vedete, bella grande, sempre gommata In modo da avere un guadino un pochino più piccolo rispetto al Predator E un pochino più compatto Rete gommata In questo guadino ci sono tra l'altro due taglie E tra l'altro tutti e due guadini sono usciti da poco quindi Sono freschi freschi Questa tra l'altro è la più grande, ce n'è uno più piccolo Cordino elastico con moschettoncino integrato E mi servirà sì per le volte che andrò in torrente O anche magari in belli, magari a bus, reali Che è comodo avercelo un guadino Questo è bello piccolino, meno il tasco dove voglio E sono a posto Ragazzi vi ricordo di guardare la descrizione che ci sono anche delle cose interessanti Ho preso una bobina di viral dello 008 che mi mancava un po' da imbobinare sulle canne Altre novità Sono uscite delle testine piombate Non le ho prese tutte Ho preso giusto un paio che mi servivano in questi momenti Andrò a prendere le altre più avanti, ve le farò vedere Sono uscite tre serie di testine Le classiche round Un po' pochino più grandi Per la pesca Meglio Leggere Diciamo Quelle classiche testine Magari si usa perca Le 7 grammi Comunque sono uscite da 7 centimetri in su O comunque esche da 7 centimetri in su Poi sono uscite le testine Con Amo Texas Quelle classiche Le shaky head Infine sono uscite queste Che adesso ce l'ho tutte pacchettate ancora Mi ho preso un po' Della stessa grammatura Che queste sono quelle dedicate al light game Che sono le serie SK01 Light game special Queste sono le 3 grammi con Amo del 6 Ci sono varie grammature e Amin Partono dal grammo e mezzo fino ai 7 grammi Per tenere proprio la parte light game Esche fino a 7 centimetri Dopo si partono con l'altra serie Che va dai 7 centimetri in su in pratica E con vari Ami per grammature Ad esempio ho preso la testina a 3 grammi Con l'Amo del 6 Che è Questa è perfetta sia per carpe Che per magari Un po' di rock fishing O reali Comunque schettine piccole E magari anche Rock fishing ai cosi Ai ghiozzi Quando ho bisogno di un pochino più di grammatura Adesso ne tiro fuori una Così vi faccio vedere Ecco qua Amo compatto Testina sotto In modo che l'esca appoggi bene E tra poco capirete perché ho preso proprio queste In modo che stia un pochino Un po' rialzata Anche per quanto riguarda le carpe E Amo Come vedete che ha una forma Verso l'interno In modo che eviti la slamatura Ho preso queste da 3 grammi Con l'Amo del 6 Ma ho preso anche le sorelle maggiore Da 7 grammi Con l'Amo del 2 Il bello di queste testine È avere proprio l'Amo piccolo E molto peso Quando c'è molta corrente O comunque profondità È comodo avere una testina del genere Questa andrò a provarla Nei prossimi giorni Amo abbastanza piccolo Con un bel peso Vi faccio vedere meglio anche l'altra Ok Ecco qua Con frontino Eccole qua L'Amo non riesco a farvelo vedere bene Però Facciamo così Proviamo a tenerle così Ok Questi sono i due Ami Questa voglio provarla Per light game sugarelli O reali comunque Quando avrò bisogno di Presentazioni piccole Ma tanto peso Soprattutto per quanto riguarda Lanciabilità E affondamento Diciamo che non sono stand up Cioè guardate Non sono stand up Però non lasciano Però quando si usa Una testina Di solito si sta Si tende a stare Molto attacchi dal fondo Se si ha Se si ha L'esca che tocca troppo il fondo Faccio che quando il pesce aspira Non prende bene l'esca E quindi si va a slamare E quindi si va a slamare O inferrato O comunque sputa L'esca Quando si ha Un'esca Rialzata Succede che il pesce Fa meno fatica Ad aspirarla Che può essere Sia per quanto riguarda Una carpa Che per quanto riguarda Non so Un reale Cioè nel senso Da un predatore effettivo A un pesce onnivoro Quindi questo aumenta La possibilità Di catturare il pesce Infine Chicca Che è uscita Già da un mesetto I nuovi Fight Crow Che sono disponibili In varie misure Io qua ho la più piccola Ovvero la 2 Che Ragazzi fa paura Questa sarà la mia arma Per carpe Post frega E pre frega Prossimo anno ormai E La 3 Esiste la taglia a 4 pollici Però io uso poco I 4 pollici Preferisco i 3 O 3 e mezzo Disponibile In varie colorazioni Adesso qua Ne ho un po' Non ce le ho tutte Sia acqua pulita Che acqua sporca Questi sono gamberi Già scentati Quindi hanno già Una buona base Adesso vi faccio vedere Un po' di colorazioni Che ce le ho di più Sulla taglia da 3 Questa che È fenomenale Cioè da guardare È fenomenale Finché non la provo Flake blu Marroncino Con il retro giallo Dal vivo È bellissima Da guardare In foto Non rende E questi gamberi Abbassano già Bucato E tanto Poi Abbiamo Rosso scuro Buono per Acqua pulita Rosso arancio Per acqua sporca Bellissima Bellissimi questi Questi li adoro Soprattutto nella taglia più piccola Azzurri Marroni Marroncino Dietro Con flake neri E flake blue Verde Con flake rossi E blu Tanta roba questi Ne ha fa sporca In più Su quelli piccolini Che ho preso Per fare Light game Reale Bass A drop shot Comunque pescarli Sia drop shot Che testina Con le testine Che vi ho fatto vedere Prima E voglio provarle Anche in mare Tipo colorazione Acqua pulita Questo marroncino Semitrasparente Questa sia a carpe Che reali In acqua pulita Tipo garden O laghi del genere Ma secondo me Anche in mare Fa paura E andrò a provarli Verdino Quello di prima Rosso scuro Che è tanta roba E quello Che voglio assolutamente Provare a carpe Il rosso arancio Ve lo tiro fuori Anzi vi faccio vedere Allora vi faccio vedere Questa colorazione Nelle taglie più grandi Che si vede meglio Eccola qua Vedete Quanto è Mobile Questo gambero Con queste due belle calette Che stanno sospese Questa colorazione Che a me fa impazzire L'ho vista Mi sono innamorato Praticamente C'è un bel assettino Qua da buttare Soprattutto da testina A Texas Vi vado a fare un esempio Che nei prossimi giorni Voglio testare Eccolo qua Adesso capite Perché ho preso Le testine piccoline Prossimi giorni Non vedo L'ore di starli Ok E ok Anzi no Un pochino di meno Questa In mare Ragazzi Rock fishing Segnatevela Perché questa È l'imitazione Di una piccola corbola Perfetta Quindi sia Gruffolatori Mormore E orate Vediamo se Riesco a metterla bene A fuoco Dai dai Prendi Prendi fuoco Ok Questa Che è l'imitazione Di una bella corboletta Gruffolatori Gruffolatori Ghiozzi O Scorfani Questa è tanta roba Tanta tanta roba Guardate qua E Allora Se volete Questo è l'amo 2 Sul Sulla Sulla taglia del 2 Del gambero Che è perfetta Praticamente Anche per i reali Così Con questo assetto È già pronto È già il pesce all'amato Dunque Per oggi Le novità sono finite Arriveranno Altri unboxing Con altre novità Perché Non sono finite Tutte qua Dunque Vi ringrazio per la visione Di questo video E vi lascio Al prossimo Mercoledì Con un nuovo video Che vi aspettavate Da un po' di tempo Dunque Direi che per questo video È tutto Ciao a tutti